Buonasera a tutti carissimi, procediamo, andiamo avanti nel tempo della Quaresima, oggi la seconda domenica della Quaresima, e procediamo ascoltando la parola. Oggi la trasfigurazione di Gesù, sempre è così, la trasfigurazione di Gesù, la seconda domenica dell'Avvento. E perché? Se guardate bene, se osservate bene questo tempo della Quaresima, se osservate bene la liturgia domenicale, vedete che tutta la liturgia spiega, cioè una domenica spiega l'altra. Per capire, guardate bene, la settimana scorsa, la prima domenica della Quaresima, abbiamo sentito il Vangelo delle tentazioni, cioè anzi possiamo dire abbiamo partito dal deserto, con Gesù dal deserto, le tentazioni, cioè per dire questa è la nostra vita, queste sono condizioni in cui ci troviamo, cioè la nostra vita nella battaglia, possiamo dire nelle tentazioni, nel deserto, ecco, il linguaggio che possiamo dire descrive bene la nostra situazione, in cui ci troviamo, la nostra vita, ecco, è questa, è così. Adesso oggi il Signore ci invita ad andare verso, cioè su, possiamo dire, ci invita ad andare sulla montagna della trasfigurazione, dove ci mostra qualcosa, trasfigurandosi, ma che cosa? Allora, per andare è molto importante anche sapere dove si va, semplicemente, no? È importante avere la mappa, qualcosa, cioè conoscere l'orizzonte dove andiamo. Ecco, il Signore oggi chiama da sé gli apostoli, Giacomo, Giovanni e Pietro, questi apostoli sempre più vicini, e li prende a disparte in una montagna e qui si trasfigura per mostrare a loro qualcosa. Allora, carissimi, prima di spiegare la trasfigurazione dobbiamo fermarci qua, guardare. Noi vogliamo scoprire il senso della nostra vita, cioè la direzione, dove andiamo, ok? E questo si chiama la vocazione. La vocazione, guardate bene, è la prima lettura oggi, la vocazione di Abramo. È bellissima vocazione, cioè lascia la tua terra, esci dalla tua terra, parti con me, cioè questo, la chiamata del Signore, perché io ti farò, io ti darò, se ricordate bene questa lettura, qui si usa queste espressioni, io ti farò, io ti darò, cioè nella quaresima si tratta di sapere, di scoprire che cosa il Signore vuole fare con noi. Allora, nella quaresima, la quaresima non sente, non serve soltanto per fare, non so, questi sforzi, non so, per digiuni, non si digiuna per digiunare, non si prega per soltanto pregare, ma per uno scopo, per scoprire chi siamo noi. Ecco, carissimi, questo è importante. Lasciamo qualche bene per trovare qualcosa l'altro, che è più buono, più bello, più gustoso, e questo si tratta nella quaresima. Cioè, e qui dobbiamo prendere la decisione soltanto, guardate, non dipende, il frutto non dipende da noi, dai nostri sforzi, dalle nostre, è tutto, dipende da Dio, io ti farò, io ti darò, dobbiamo essere attenti. Il tempo della quaresima è saper mettersi nel cammino con il Signore, questa è la prima cosa. Andiamo, adesso saliamo, dove? Con gli apostoli su una montagna. Siamo con il Signore e il Signore si trasfigura, ok? Ma prima, cosa succede? Guardate bene, il Signore riprende a disparte. Ecco, a che cosa serve la quaresima? Andare a disparte, a staccarsi da questa vita, da quello che ci stanca, da quello che ci, possiamo dire, disturba nella nostra vita, quello che ci schiaccia addirittura, no? Allora, lasciamo questa vita un po', facciamo un distacco. Come facciamo? Dove andiamo? Ci spiega il Vangelo, andiamo sulla montagna. Sulla montagna che cosa è? Guardate bene, la montagna nella Bibbia è l'immagine della presenza di Dio, cioè l'intimità di Dio. Siamo chiamati non a fare soltanto sforzi, tutto questo, no? Le opere buone sono importantissime, ma soprattutto per trovare di nuovo l'intimità con il nostro Signore, cioè lo spazio soltanto per me è con il Signore. Questo è bellissimo, cioè avere questo lusso, no? Di lasciare anche questo che ci disturba, che ci schiaccia, che ci fa male, proprio questo. La quaresima è questo, figlioli miei. Allora, andiamo avanti. Sono entrati con Gesù e Gesù si trasfigura. Perché si trasfigura Gesù? Perché fa sta roba, no? Allora, per mostrare lo scopo della nostra vita. Perché, guardate bene, Gesù si mostra, si trasfigura, cioè cambia la forma. Di che cosa? Della nostra natura umana, per dirci che di voi diventerà lo stesso. Cioè, voi anche sarete trasfigurati, i vostri corpi, quello che siete, sarà trasfigurato. E questo che è trasfigurato è così bello che Pietro dice, wow, che bello che siamo qua, che bello che siamo qua. Vuole costruire tre cappanne, vuole festeggiare, perché vede la bellezza. E questo desiderio di Pietro non è niente male. È giusto desiderio, vedere Dio, la bellezza di Dio, no? In questa bellezza di Dio vedere anche la nostra bellezza. Che bello che siamo qua e vogliamo anche noi essere qui così. Ecco, carissimi, importante, nella trasfigurazione Gesù ci dice che cosa sarà con noi. Che la nostra natura, tutto quello che adesso siamo, che facciamo, sarà trasfigurato. Ma dobbiamo ancora fare il cammino. Non possiamo ancora rimanere sulla montagna. Gesù dice così, l'amore va oltre. Dobbiamo scendere per andare sulla Golgotha, per andare alla vita, ma attraverso la Golgotha. E questo è bellissimo, carissimi. Cioè, dopo gli stessi apostoli, questa l'esperienza è per loro proprio, per noi. Perché? Perché dopo dovranno ancora partecipare, vedere Cristo crocifisso, Cristo pieno della sangue, del sangue. Carissimi, Cristo è sofferente. In questo Cristo sofferente riconoscere la bellezza di Dio. Allora, di che cosa si tratta oggi nel Vangelo? Dobbiamo attraverso la trasfigurazione scoprire la bellezza e la bontà di Dio per iscrivere profondamente noi nostri cuori. Guardate bene, la prima tentazione del demonio che tenta Adamo e Eva, di che cosa si tratta? Di che cosa parliamo? Mette in dubbio, mette in crisi i primi genitori mettendo in dubbio la bontà di Dio. Ma se è vero che Dio è così buono, perché ha vietato a mangiare da questo albero? Forse non è così buono, come dice, no? Allora, la bontà di Dio, messa in discusso, cioè, carissimi, qui si parte. Perdere la consapevolezza della bellezza di Dio, della bellezza della nostra fede, della bellezza nostra. Cioè, dove andiamo? Come vogliamo campare la nostra vita? No, noi non siamo chiamati a campare la nostra vita, a vivere giorno dopo giorno così, no? No, noi siamo chiamati a vivere la nostra vita in bellezza, cioè, la vivere, no? Dobbiamo vivere, gustare la nostra vita. Scusate la mia espressione, ma questo quando parlo, parlo sempre con la forza, ma dobbiamo viverla bene, cioè, gustare. E' questo che voglio Dio per noi. Dio oggi ci prende per la mano, per piano piano portarci verso la vita, anche attraversando la croce. Ma non avere paura, il Signore ci prepara attraverso la sua trasfigurazione. Guardate Gesù, allora, come andare oltre? Come scendere dal tabor verso la Golgotha? Come fare? Come non perdere la fede? Allora, c'è anche qui la spiegazione. Guardate cosa succede quando Gesù viene trasfigurato, si sente la voce. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Allora, dall'esperienza della vista, dall'esperienza, cioè, così, no? Diretta, dobbiamo fare un passo avanti all'esperienza dell'udito. E guardate bene, noi ogni giorno nella Chiesa cosa facciamo? Ascoltiamo la parola di Dio. Se uno non ascolta la parola di Dio, non sa com'è buono Dio, non sa com'è bello Dio. Signore è bello, Signore è buono. Allora, figlioli, dobbiamo oggi fare niente, soltanto sottomettersi sotto lo sguardo di Gesù, sotto la sua voce. Dobbiamo lasciarsi guidare in questo tempo per attraversare tutta la nostra vita, per scoprire la nostra bellezza, per arrivare alla vita eterna. E questo vi auguro con tutto il mio cuore. Buona e santa quaresima. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.